eccoci ragazzi benvenuti in questa nuova nuova live fatemi sapere ovviamente se si sente se è tutto ok e non ci vediamo da un bel po' di tempo dovrebbe essere ok perché io vedo già il mio faccione su sul canale e quindi dovremmo essere online e intanto intanto due candelette verdi questo questo daily di bitcoin che sta facendo insomma due candele verdi un po' che rincuorano anche perché non sono state super up come le ultime e quindi questo non è una cosa negativa cioè non sono state dei candeloni come questi ma sono un po' più tendenzialmente di attesa non è scaduto il termine ciclico che mi aspettavo ma forse forse ci siamo ne parliamo anche oggi andiamo a vedere se effettivamente queste candele verdi possono essere indicative di una qualcosa che in pratica sta iniziando cioè quello che mi aspettavo da inizio della settimana vi avevo detto la la questione dell'inizio del ciclo eh trimestrale di bitcoin allora ehm ci siete un po' eh Franz dice sto posizionando qualche short in realtà no sono long eh per l'attesa di questo ciclo trimestrale nuovo anche se non mi piace proprio questo long ma è di brevissimo quindi è già impostato il trailing stop ti dico francamente quindi già comunicato eh nella cale quindi è un log da trader puro 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 è possibile rivedere la la live eh sì penso che la caricherò sul canale come sempre Empol ciao Dan Empol ancora eh va su e giù su e giù ma eh non ci ha dato soddisfazioni che eh volevamo no qualche annetto fa ehm Franz ci si ho visto la cale si lo so lo so pubblica tutto lì eh possiamo vedere anche in realtà eh la il sondaggio che ho condiviso ragazzi eh è stato un sondaggio che adesso vi faccio vedere sul mio eh canale eh telegram ma è è figo perché perché in pratica ehm eh si eh si vede eh adesso vediamo se riesco a condividere la la finestra ok chiudo questo e condivido l'altra finestra di di telegram perché ragazzi è troppo figo perché si vede che cioè siete tutti eh lì no cioè le queste cripto le volete analizzare un po' tutte perché cioè vince Matic con il ventiquattro per cento in questo sondaggio Solana però fa il ventitré ma poi le altre sono tutte uguali diciassette CRO quindici finance coin poi Atom e Falk coin dieci per cento cioè in pratica eh c'è stato un po' eh una sorta di di eh diversificazione sulle ehm analisi che vogliamo fare sicuramente faremo Matic e Solana e e poi vediamo un po' eh se resta tempo anche per per qualcos'altro eh di di un po' più figo magari delle solite cose cose eh riusciamo a vedere le top cripto ma contro BTC beh interessante questa cosa di vedere le top cripto contro BTC ne abbiamo parlato tantissimo eh gli anni del bull market eh sicuramente è interessante questa cosa anche se ti dico già da subito che eh in questo contesto preciso le cripto a volte hanno avuto un andamento eh molto correlato a Bitcoin oppure negativo rispetto a Bitcoin quindi vederle in realtà contro Bitcoin eh va bene però ehm un po' rischiamo che il risultato è sempre lo stesso poi non essendo in bull run in pratica ehm sono tutte negative con contro Bitcoin tranne qualcuna e e mentre invece in eh bull run è diverso perché magari quelle che hanno maggiore forza relativa sono più convenienti da di tenere il portafoglio per cavalcare eh un po' l'onda però le vediamo interessanti sicuramente vediamo ETH dai vediamo ETH a livello ciclo mensile di BTC come siamo messi e come siamo messi e che è proprio nella giornata di ieri rischiamo tra virgolette rischiamo perché è una cosa positiva che sia iniziato un nuovo eh un nuovo mensile ed è proprio qui che insomma cade la questione perché ragazzi perché da un punto di vista tecnico eh nella giornata eh intanto ho aspettato un attimo che riduco nonostante io abbia un super monitor da eh di di quelli giganteschi non vi ricordo che si chiama ragazzi se non è un sedicinone è quello proprio lungo enorme non mi vanno i grafici sono troppo piccoli per i grafici allora eh in pratica eh se noi andiamo a vedere questa struttura e la posizioniamo questi prezzi Bitfinex che ovviamente ha una shadow pronunciata il giorno 17 agosto che gli altri exchange non hanno ma se andiamo a impostare le close ci rendiamo conto che il minimo del lunedì è stato un minimo quindi questa zona qui può essere considerata anche la chiusura del ciclo mensile per rispondere a la tua domanda ma lo vediamo tra poco perché cerchiamo di capire se effettivamente questa cosa può essere validata o meno anche perché insieme al ciclo mensile 89 giorni 90 giorni la chiusura del ciclo trimestrale ci può stare tranquillamente alla grande e quindi il la fase di rimbalzo attuale potrebbe essere quella che nel video di lunedì vi dicevo essere effettivamente attesa nonno che mi aspetto chissà che cosa cioè eh numeri eccezionali assolutamente no però da un punto di vista di trading ehm è giusto sottradare quella fase quindi questo è il concettualmente il discorso eh poi ehm ho un po' paura che questo struttura sia stata un po' veloce e che il mercato faccia la famosissima lingua di buyer cioè vada a fare uno stop hunting così prima di riprendere a eh il trend corretto questa zona è il rischio del trader che deve essere assunto e ci sono mille tecniche eh che si possono utilizzare per evitare danni eh in questa fase quindi money management gestione attraverso trading stop eh tante cose ragazzi che ovviamente non spiazzano un trader formato no in academy comunque già abbiamo impostato cioè almeno io ho indicato l'operatività da fare alcuni tra le altre cose sono entrati meglio di me in proprio sulle fasi di minimo io invece no perché non mi piaceva questa fa questa candela con questa shadow gigante ve la faccio vedere non mi piaceva proprio e quindi ho atteso ho voluto attendere i dati eh delle due e mezza sono entrato più o meno intorno a ventise mila cento quaranta quindi niente di eclatante però è un trade che può avere una eh idea di fondo cioè una strategia di fondo che può essere secondo me corretta in termini di breve periodo breve periodo che può durare anche anche una decina di giorni e questo non è eh assolutamente strana per una cosa del genere però non vi aspettate cioè io non mi aspetto cose eclatanti quindi è ora di fare super pump eccetera eccetera eh è ora di fare un tentativo long poi siamo nella fase dell'annuale come ben sapete difficile perciò eh un super pump da una fase del genere è un'eccezione eh statistica ci può stare però è un'eccezione statistica questo bisogna dirlo va bene eh eh Zodic dice vabbè almeno sappiamo fare switch per entrare e accumulare bitcoin sì questo sicuramente per favore cominciando il quarto trimestrale coincidendo con la chiusura dell'annuale quattro probabilisticamente premo un minimo inferiore a quella appena fatto ciao eh bella domanda eh facciamo così iniziamo dall'inizio perché qui siete diventati tutti super esperti bravissimi e eh e quindi insomma rispondiamo dopo a questa cosa dai allora appena connesso cosa mi sono perso niente qualche informazione così generale sui cicli mensili credo che sopra i ventisei e quattro in chiusura dell'alli si può allungare fino a ventotto e tre ciao Federico ventotto e tre è uno dei target mensili di una delle mie strategie ventotto mia circa eh se è iniziato il nuovo trimestrale può fare quel livello sì lo può fare eh anche per questo che io sono insomma nel tentativo di prendere questo long se va bene o più oppure poi chiudiamo sono già lungo comunque eh come vi avevo detto da da lunedì sono entrato non bene come volevo e però insomma adesso analizziamo anche questa questione qui l'inversione di trend eh titoli eh americani a breve contro titoli a lungo termine porto un colore del mercato azionario come in questo momento no questa è una idea che funzionava tanto tempo fa eh sicuramente è una cosa che teoricamente non può durare tanto tempo eh però c'è da dire una questione i titoli a breve risentono molto dei tassi attuali i titoli a lungo no questo eh perché il mercato si aspetta che nel lungo periodo i titoli di di stato i rendimenti vadano a calare quindi ti ti spiego qual è il concetto è una questione di eh opportunità se io ho un titolo a vent' anni trent'anni che mi rende oggi il sei per cento è molto ghiotto quindi io che faccio lo compro perché mi blocco una rendita al sei per cento cinque cinquanta per vent'anni vent'anni il mercato non te la dà quella rendita perché dice per noi il tasso attuale è troppo alto per un periodo lungo e quindi non conviene eh cioè non te lo do non ti pago quel rendimento ti pago di meno quindi teoricamente il fatto che il la curva diciamo dei dei tassi di interesse a breve sia più alta di quelli a lungo non è anonolo poi se tu ti riferisci invece alla questione dei delle azioni eh a breve o a lungo non so a cosa ti riferisci quindi spiegati meglio in questo caso se ti riferisci alle obbligazioni e per questo motivo eh allora poi ovviamente non può durare tanto eh questo è chiaro cioè può durare qualche mesetto un annetto massimo c'è una cosa piccola deve essere e poi dovrebbe eh insomma ritornare eh quarto dimestrale chiudendo ci sarebbe la chiusura dell'annuale scusami sì sì esattamente hai ragione sull'annuale quando è attesa la recessione di usa secondo me inizierà dal prossimo anno eh però il dato di oggi sul tasso di infrazione eh non è buono non è buono ehm però forse il mercato lo sapeva questo eh quindi è fatto un po' no un tentativo dovrebbe comunque iniziare dal primo trimestre ehm verso marzo del prossimo anno può essere anche che non c'è allora il soft landing di cui praticamente sono stato l'unico a parlare all'inizio dell'anno perché c'erano le caratteristiche per un soft landing quest'anno è un'anomalia di venta ogni vent'anni insomma si verifica questa cosa però esiste la possibilità e questo soft landing quest'anno ci stava e insomma l'abbiamo preso no però eh teoricamente ehm può essere anche che nei prossimi eh trimestri non si veda una gestione imponente anche se secondo me non sarà così vediamo eh il tasso di infrazione non controllato vi faccio vedere i dati di oggi non è una cosa eh positiva sicuramente il rimbalzo tecnico ci stava sicuramente i la reazione della Fed non si farà attendere secondo me perché non c'è storia hanno deciso che distruggeranno il tasso di infrazione quindi è possibile anche i tassi di interesse continueranno in pratica a a salire ulteriormente questa cosa qui eh non lascia tanto spazio bitcoin di agire questo è un po' eh il discorso cioè non abbiamo tanto spazio di di agire eh relativamente a insomma a grandi app ecco questo è eh sostanzialmente la questione ma noi non ci aspettiamo grandi app ragazzi da qui alla fine dell'anno cioè questo è il discorso e questi dati relativi per esempio all'inflazione o quant'altro sono appunto quelli eh che noi andremo a vedere verso la fine entro insomma per la fine dell'anno quindi se andiamo a vedere questo qui il dato tre e sette rispetto al previsto tre e sei non è stato neanche chissà quanto diciamo ehm negativo eh però il rimbalzo c'è lo vedete in maniera abbastanza chiara la campana discendente del tasso di infrazione e il rimbalzo ora come la teoria di trend classico questa fase eh ribassista e questo rimbalzo di una fase ribassista prelude poi al raggiungimento del target intorno al due per cento quindi teoricamente dovrebbe essere tutto normale tanto è vero che comunque anche il dato relativo per esempio alla eh eh al rialzo meno dei tassi il prossimo venti settembre quindi fa una settimana è praticamente scontato che la fed non alzerà i tassi quindi farà una pausa per poi probabilmente alzarli ulteriormente in maniera dopo insomma ecco questo è la questione eh quindi io dal punto di vista dei dati macro eh ragazzi è tutto confermato rispetto a quello che ci siamo sempre detti cioè questi tassi saranno mantenuti così per un po' l'inflazione eh deve essere controllata e probabilmente sarà sotto controllo il primo trimestre del duemilaventiquattro la recessione arriverà teoricamente il primo trimestre del duemilaventiquattro e la ti usa un exit strategy dalla politica restrittiva della eh fed coincide con l'halving di bitcoin a maggio prossimo quindi teoricamente noi avremo questo super boost che poi sarà nelle corde del mercato cripto sfruttare o meno lo scopriremo il l'evoluzione sottostante del settore delle cripto c'è stata anche nel duemilaventitra che è stato un anno orribile eh secondo me perché da un punto di vista tecnico siamo andati nell'oblio eh e questo oblio non è positivo poi è ovvio magari con un hype nuovo eh si può ripristinare tutto però in ogni caso c'è stato tanto lavoro dietro da un punto di vista anche tecnico però ragazzi io una domanda ve la dico no tempo fa eh quando c'è stata la defanner la summer la defi summer e da lì in poi il settore cripto aveva preso un po' il sopravvento su quello del su bitcoin in generale ma l'anno 2023 è l'unico vero hype che sta tirando un po' il mercato è l'etf di bitcoin cioè lo stesso del 2018 ragazzi quindi siamo tornati indietro palesemente di cinque anni non a livello tecnologico ma a livello di mercato cioè il mercato ha subito una battuta d'arresto notevole dove però un innovazione delle cripto eh è stata vista come un flop questo è il discorso e quindi siamo tornati a vedere solo bitcoin e solo l'etf che era una cosa che ci aspettavamo nel 2018 ve lo ripeto l'abbiamo visto come è l'unico spiraglio di 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 gioia del mercato cripto io non credo che sarà l'unico spiraglio il prossimo anno penso che ne vedremo delle belle ma penso che questo mercato non lascerà ai ehm tanto spazio di manovra a chi non ha una formazione adeguata questo non perché lo dico perché a me piace la formazione lo sapete è il mio coro ehm personale e soprattutto è quello che mi ha spinto insomma vedete anche da dietro quattro che ho ho mille scappali di quel tipo in casa no? Però dico eh anche da un punto di vista tecnico i mercati dopo un totto di anni vanno a diventare più difficili ragazzi questo non perché sono cattivi e roba del genere perché semplicemente diventano più efficienti c'è una teoria dell'efficienza del mercato perciò questo significa che se non avete un background di preparazione minimo non è non serve una cosa gigantesca questo io ve lo dico mi dicono per fare scalping daily trading daily cose folli che faccio anche io ragazzi sì però se volete investire in maniera oculata e siete e diciamo volete non stare contro trend e perdere l'ottanta novanta per cento che è la peggiore cosa che voi possiate fare per la vostra vita personale bando le ciance lasciate perdere le fesserie che sentite online perché chi sta dentro e ha perso l'ottanta novanta per cento capisce bene di che cosa sto parlando quindi insomma vi rimangono veramente le cose orribili addosso dal punto di vista anche emotivo non riuscite a gestire bene eh neanche la vita quotidiana quindi abbandoniamo queste fesserie no del stare contro trend e perdere il novanta per cento perché poi fra ottantasette anni forse recupero allora c'è anche una vita poi ognuno di noi deve vintere quindi ricordatevi la vostra vostro equilibrio psicologico e mentale quindi un minimo vi aiuterà tantissimo secondo me a cavalcare l'onda dei prossimi anni questo eh del prossimo anno questo secondo me sarà così poi vediamo ovviamente bisogna vedere eh il tutto quindi eh andiamo avanti e iniziamo con la questione ciclica eh poi vi rispondo alla domanda domanda da non trader come mai nel settore cripto ci sono le media mobile a 200 periodi e non a 365 visto eh che il mercato è sempre eh aperto allora la media media mobile lunga non è la 365 ma alle 274 ho fatto in video eh a tal riguardo dove ho spiegato in pratica che eh l'equivalente della media a 200 degli istituzionali e la media a 274 per quanto riguarda eh bitcoin e le cripto perché devi aggiungere in pratica i sabati e le domeniche fare un calcolo statistico e ti esce questo numero eh ora qual è il problema il problema è che gli istituzionali a prescindere dal fatto che le cripto vadano eh open sabato e domenica non ci stanno a lavorare sabato e domenica ragazzi non lavorano comunque non gli ne frega assolutamente niente di fare questa cosa quindi anche lo avete visto nell'ultimo anno dove il mercato retail è veramente stato molto piccolo sui mercati delle cripto e dove grandi hype non ci sono stati e le istituzioni cioè i movimenti di bitcoin nel weekend sono stati pochissimi e anche bassi e spesso poi erano dei movimenti che si ehm annullavano la domenica prima dell'apertura del lunedì e questo significa che in pratica noi ci siamo ritrovati ad avere un mercato che sta tendenzialmente spostandosi verso eh quello standard a quel punto alla media 200 periodi potrebbe avere ancora eh potrebbe essere una media che ha valore però tecnicamente devi usare la 274 infatti io non la uso mai la 200 periodi ogni tanto la 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 uso perché comunque quest'anno forse un po' eh il mercato sta tendenzialmente spostandosi verso quella direzione ma comunque guardo sempre anche quella a a 274 che ti dico oppure guardo il grafico settimanale che è un po' aggiusta le carte no perché non hai sabati la domenica dentro quindi tu guardi il grafico settimanale e eh aggiusta eh un po' tutto va bene allora andiamo alle domande di prima che mi interessavano erano alla grande e Mauro ma tu fai ciclica anche sugli inversi? Sì la facciamo anche in Academy è possibile eh un ritorno dei minimi di sotto quindici mira tutto è possibile come sai ma deve essere un annuale ribassista eh per avere un annuale ribassista di Bitcoin eh sarebbe la prima volta nella storia eh che avvengano che può avvenire una cosa del genere non c'è tra niente la ciclica inversa con questa cosa la ciclica inversa è un'analisi sui massimi in pratica eh ti può aiutare a centrare meglio eh alcuni cicli standard ma mh poi vabbè se ti piace la vuoi fare alcuni ragioni dal contrario ci trovano meglio eh in alcuni momenti devo essere sincero è molto più utile della ciclica normale e però sono rari i momenti in cui più utili questo per via del fatto che i massimi hanno una eh volatilità una deviazione standard di ripetitività statistica decisamente più alta dei minimi e questo impone il fatto che la ciclica inversa sia molto molto più eh deviante eh statisticamente parlando questo è un calcolo matematico eh la puoi usare però devi sempre ricordarti che quei numeri sono da prendere con le pinze molto di più di quelli dei minimi e questo è il discorso però a volte ti aiuta perché c'entra molto bene le fasi poi soprattutto se usi eh se la usi per fare trading veloce quindi sui cicli più brevi che quelli lunghi tanto e non quanto diciamo puoi usare no? Però eh magari ti da una centratura se ti ricordi io quando ho fatto la previsione del dei massimi storici di bitcoin poi azzeccati per caso diciamo io lo dico per caso però non è una casualità è stata la ciclica inversa noi abbiamo usato la ciclica inversa era il duemila venti se non sbaglio ventuno non mi ricordo no duemila ventuno abbiamo fatto il massimo duemila venti quindi abbiamo usato la ciclica inversa per fare quella cosa poi ovviamente io non so a riempirvi la testa di di nozioni da questo punto di vista poi nei video di youtube non non mi piace dare tante informazioni come sapete io sono minimalista e quindi dico solo quello che penso sia utile per un po' per tutti allora andiamo a eh per alcune alt comematiche non potrebbe essere la cosa di più cinque eh questa cosa la vediamo anche oggi dai allora iniziamo a capire un po' ho perso le domande di prima ne avete fatto tante eh e volevo riprendere qualche domanda che mi avevano fatto prima eh ecco qui eh bello mio 79 che eh mi ha scritto questa cosa cominciando iniziando diciamo il quarto trimestrale di bitcoin potrebbe essere in effetti questo trimestrale un trimestrale che porta alla chiusura del ciclo annuale teoricamente sì perché nel video che vi ho fatto quello sulle quattro fasi cicli che è un video ovviamente molto teorico molto basilare e ho cercato di riassumere questo concetto cioè il fatto che l'annuale di bitcoin può avere queste quattro cicli sottostanti di solito bitcoin ne fa di più però ne fa eh teoricamente cinque mh perché fa cicli annuali molto lunghi questo non è anomalo per via del fatto che è un un bias realzista abnorme e quindi insomma non è strano che abbia fatto cose del genere allora andiamo a guardare però per dare una risposta del genere andiamo a guardare sul grafico settimanale e in sostanza eh il grafico settimanale ci dice che qui eh l'ultimo minimo da cui era partito questo ciclo trimestrale era arrivato a duecento tre eh giorni che è insomma discreto qui a livello settimanale siamo a novantuno giorni in realtà non sono novantuno sono ottantanove perché manca qualche giorno però qui eh si calcolano le settimane quindi sembrano eh di più però teoricamente questo può essere in effetti l'ultimo eh può essere diciamo l'inizio dell'ultimo ciclo trimestrale quindi se io vado a calcolarmi in altri novanta e passa giorni arrivo eh a dicembre a dicembre potrei avere in effetti la chiusura del ciclo annuale quindi così strutturato trimestrale uno trimestrale due trimestrale tre trimestrale quattro e qua si chiude il ciclo attenzione però perché c'è un discorsetto se io utilizzo i prezzi di Bitstamp questo minimo è ventiquattro e nove rispetto a un minimo di partenza di ventiquattro e sette se io vado a utilizzare i prezzi invece di eh Bitfinex il minimo di eh eh partenza del trimestrale ventiquattro e otto questo minimo ha rotto teoricamente e ha indicato un trimestrale ribassista questo minimo eh ha fatto invece un minimo più alto il trimestrale neutrale in pratica con un doppio minimo. Ora dov'è la verità? Il problema è questo dov'è la verità? Perché i mercati delle cripto ragazzi non sono regolamentati e quindi non hanno un prezzo di scambio identico da ogni exchange. Questo significa che quando andiamo ad analizzare i cicli che sono laterali come questo attuale non possiamo ragionare in termini di vincolo su una shadow se poi gli altri exchange non la confermano. Può essere che ha ragione Bitfinex e quindi questo trimestrale è ribassista. Perché ti dico questo? Perché se questo trimestrale attuale è ribassista il prossimo è ribassista pure. Quindi non c'è modo a meno proprio di eccezioni statistiche di avere un trimestrale rialzista il prossimo. Già dovrebbe essere ribassista di suo perché è l'ultimo dell'annuale ma teoricamente come ti dicevo non ha forza ma al momento se non abbiamo vincoli a ribasso teoricamente possiamo stare più tranquilli ma se noi non abbiamo prezzi adeguati quindi Bitfinex dice una cosa Bitstamp ne dice un'altra Binance ne dice un'altra ancora capite bene che cosa significa quindi io dal mio punto di vista in questi contesti particolari ragiono un po' anche sulle close e vi faccio vedere la close come è un po' pericolosetta perché la close dice sono iniziato da qui questo è Bitstamp 25.9 e qua ho fatto 25.8 qui ribassista. Se io ragiono su Bitfinex con il daily qui dice io ho fatto 25.100 e qui ho fatto 25.183 quindi 25.146 teoricamente è un ciclo neutrale non è ancora ribassista ma per quanto per cose veramente infinitesimali diciamo così quindi capite bene come diamo un senso a livello ciclico a questo trimestrale questo è un trimestrale che è un trimestrale neutrale ha fatto un doppio minimo questo è concettualmente il discorso non ha vincoli di nessun tipo questo secondo me non ha vincoli al momento perché l'anomalia del mercato cripto di avere queste strutture un po' fatte così e ci impone di stare attenti nel appunto nella questione di dire e di dare i vincoli e se noi andiamo a guardare l'unica cosa regolamentata che c'è che è il future di bitcoin e ci rendiamo conto che teoricamente questo minimo è 24 e 7 e questo minimo quello proprio di due giorni fa è 24 e 9 quindi il future ci dice che il trimestrale in questione è neutrale non è ribassista è finito e il problema è proprio quello allora io non so se questo trimestrale è ancora concluso nessuno lo può sapere perché sono solo due giorni ora se il trimestrale si conclude così allora il prossimo ciclo trimestrale di bitcoin può avere anche un nuovo massimo ragazzi perché non ha vincoli capite qual è la questione ciclica che ora abbiamo di fronte nei prossimi mesi è una figata questa cosa se invece non è finito e deve chiudere attenzione perché può giocarci il famosa eccezione no quella linguetta lì quindi per rispondere alla domanda inizia il successivo probabilità la probabilità come diceva lui è avere un minimo inferiore a questo è più alta quindi la probabilità di avere un minimo inferiore nell'ultimo trimestrale a questo attuale quindi 25 mila circa è alta e più alta del normale però non avendo nessun tipo di vincolo come al momento ma non sappiamo se questo trimestrale è iniziato ragazzi è quindi se non è iniziato lo scopriremo a giorni perché fa un nuovo minimo ok se invece è iniziato un nuovo trimestrale ma è troppo presto vi ripeto su due giorni che fa due candelette così quindi non abbiamo idee corrette da questo punto di vista se invece è iniziato non ha fatto vincoli di passisti per e perciò sostanzialmente possiamo fare un nuovo massimo quindi questa probabilità di fare un minimo inferiore nell'ultimo ciclo trimestrale esiste è ovviamente la più semplice ma si scontrano contro la possibilità del non avere vincoli quindi possiamo addirittura fare nuovi massimi quindi a quel punto concludere con un altro trimestrale in barra di congestione come questo e magari fa un altro trimestrale che sale fa una cosa del genere e poi fa un cammellone gigante e chiude così è fine dei giochi e guardate che bel cammello che abbiamo disegnato qui va bene allora detto questo bellissime queste domande giusto per farvi capire la questione cittica interessante e andiamo avanti allora andando per gradi intanto vediamo se mi avete detto qualcos'altro eccolo qui infatti presumo marzo burrascoso ma qui lo dico più lo nego che adesso vi ha risposta varon figurati allora ragazzi iscrivetemi le domande perché ne avete fatte troppe andiamo con calma altrimenti non finiamo più volevo continuare a finire poi la questione di bitcoin e e e poi diciamo andare avanti allora sempre sugli inversi mi diceva non sto gufando la riferita ancora un video presente sì assolutamente è possibile questa cosa che venga infatti ti dicevo non dipende dagli inversi dipende dal fatto che questo ciclo annuale potrebbe essere neutrale ribassista e quindi sì lo può fare nell'ultimo trimestrale quindi nell'ultimo trimestrale significherebbe vedere una cosa del genere un app di un paio di settimane un mesetto e poi l'inizio della tragedia che in questo caso sarebbe anche visibile insomma se ragioni su questo discorso qua è l'abbandono di questo supportone perché poi se inizio l'ultimo trimestrale fa una cosa del genere poi mi rompe questo supporto può fare di tutto cioè può arrivare dovunque può arrivare anche sotto questo 15.000 questo è il discorso perché inverte il trend una volta che il trend è invertito può continuarlo fino all'infinito no può arrivare a zero quindi tutto è possibile assolutamente sì da questo punto di vista c'è poco da fare allora il mercato del lavoro uso è ancora in forte però sì Jones è molto forte in il mercato del lavoro allora andiamo avanti un po' ok questa domanda qua Mauro vista la chiusura del ciclo annuale di Nasdaq intorno a quale prezzo potrebbe chiudere andiamo a vedere Nasdaq dai una bella panoramica anche di una mercato diverso dal nostro mercato delle cripto allora analizziamo un po' di Nasdaq facciamo un po' di annuale di Nasdaq interessante è una figata tra l'altro l'idea di mettere un po' di contenuti un po' sul lato investing anche sul canale ragazzi per spaziare anche perché mi sono reso conto che questo tipo di analisi che facciamo hanno una grande utilità anche nel mercato classico e quindi perché non andarlo a sfruttare io ho settato un ciclo annuale di Nasdaq da tre sette sette che aveva due semestrali centonovanta quattro e centottantatré devo essere sincero è una centratura un po' fatta così così perché in realtà questa zona qui il semestrale non l'ha fatto sembra più che altro che il mercato stia facendo delle strutture di natura ternaria quindi così in pratica strutturate e questo dovrebbe essere l'ultimo ora qual è la questione ragazzi che c'è un po' un dubbio almeno io ho un dubbio di Nasdaq ed è questa struttura qua questo trimestrale qui questo trimestrale essendo un po' un trimestrale in barra di congestione potrebbe essere con grande tranquillità una lingua corta di buyer e quindi sostanzialmente questo trimestrale appartenere non al nuovo annuale ma al precedente annuale se questa cosa è valida per quanto riguarda Nasdaq allora c'è ancora un po' di tempo e soprattutto la centratura si divide in maniera diversa perché la struttura ciclica a quel punto non inizia da ottobre ma inizia da dicembre e quindi fa una struttura che è creata in pratica così ragazzi quindi un semestrale da 119 un po' un semestrale corto diciamo così poi questa struttura da 115 e una successiva che dovrebbe essere più o meno simile da 120 circa che ci porta al dicembre 2023 teoricamente quindi in linea con l'annuale di bitcoin se fa una cosa del genere ecco qui insomma l'annuale di Nasdaq andrebbe visto un po' nel corso del tempo soprattutto questa struttura ciclica che cosa combina e però in questo caso vedete noi abbandoniamo questo ciclo e lo portiamo come lingua di buyer al ciclo precedente in pratica facciamo iniziare questa struttura qui e qui è un po' più semplice vedere le strutture cicliche e magari potremmo fare anche nuovi massimi e chiudere in questo modo questa è una struttura alternativa non è quella che solitamente stiamo seguendo però l'ho svelata la prima volta oggi non ve l'ho detto ancora sul canale youtube e però esiste questa possibilità altrimenti siamo nell'ultimo trimestrale ce ne accorceremo tra poco di dell'annuale e bisogna capire cosa succede se noi andiamo a fare un trimestrale ribassista il mercato ci pone un dubbio e ci dice qui può essere una chiusura annuale oppure fa l'ultimo e poi chiude a dicembre se invece fa un trimestrale che è molto forte ci fa nuovi massimi allora bisogna stare attenti perché perché se ci fanno i massimi qui esiste invece un vincolo perché noi qui abbiamo un trimestrale ribassista o un b mensile più trimestrale cortissimo da 53 giorni quindi pensare che da qui questo trimestrale faccia nuovi massimi per poi andare a chiudere l'annuale è improbabile moltissimo ciò significa che teoricamente se noi andiamo a fare nuovi massimi da qui la struttura che vi dicevo prima ternaria è più probabile quindi questo ciclo lo buttiamo nell'annuale precedente e ci teniamo l'ipotesi che vi ho fatto vedere e a quel punto ce ne andiamo a dicembre 2023 questo per quanto riguarda la ciclica di nasdaq che è una figata grazie di avermi fatto questa domanda perché a livello sia tecnico ma insomma è anche bello vedere tutte queste queste analisi allora andiamo avanti matic secondo te matic ha chiuso il ciclo annuale ora lo andiamo a vedere matic e solana sicuramente domanda da non trader questo l'abbiamo già vista ok io scendo avanti vediamo se ci sono altre domande ok sempre matic se non sbaglio sì ok possiamo andare su matic mi sa vediamo questa qui allora riguardo alcune durate cicliche riferimento ai cicli dei cicli di migliorino aggiungendo i sabbi e le domeniche mi vengono durate dei t-2 di un giornaliero 18 ore e ok va bene adesso non ricordo a memoria quelli di migliorino mi sembra che le cripto rispettino di più queste tempistiche rispetto ai classici daily da 24 circa non so se è una mia impressione o a te risulta guarda io non sono uno di quei trader che ama la struttura dei cicli precisi l'ho spiegato mille volte ma sono consapevole anche del fatto che la stragrande maggioranza dei trader vuole avere un'idea precisa di diciamo strutture temporali in realtà io ho un dilemma su questa cosa perché teoricamente se io vi indico queste cose vi porto a pensare che ci siano delle regole regole che in realtà non ci sono e teoricamente sono di natura statistica o meglio ci sono serie storiche non regole che è diverso quindi se noi analizziamo serie storiche su un mercato e diciamo a quella serie storica e si ripete n volte la probabilità che ripeta una serie storica è maggiore di una che non la ripeti ma se noi ragioniamo e pensiamo che quelle limitazioni sulle durate cicliche siano delle regole è un problema perché non sono delle regole ragazzi a me che non credete nella palla di vetro e nella magia allora sì in quel caso avete un concetto di ciclica che non è il mio io sono uno statistico quindi analizzo dati serie statistiche preferisco ragionare così poi ognuno insomma può far quello che vuole ragazzi però dico teoricamente la ciclica un po' lascia lo spazio no alla previsione magica e quindi questa un po' idea la dobbiamo eliminare la dobbiamo un po' allontanare da noi io sono più propenso a ragionare su strutture temporali di serie storiche che ripete un asset bitcoin fa più o meno cicli daily da 24 ore un po' più lunghi a volte quelli rialzista un po' più corti quel ribassista in linea con la teoria ciclica quindi se aggiungi i sabati e le domeniche ti vengono i dei cicli un po' più simili a quelli di migliorino ma migliorino li aveva calcolati sui cicli delle serie di fuzzimib di sp insomma ma erano serie anche molto vecchie che adesso comunque andrebbero aggiornate quindi sicuramente ricordati che il calcolo dei tempi ciclici sono da fare sul mercato di riferimento in questo caso rifalli tutti da capo su bitcoin e troverai insomma più o meno delle similarità questo sì però chi te lo dice che poi rifà la stessa cosa domani no quindi un ciclo daily quanto deve durare più o meno 24 ore più o meno significa che aggiungi 3-4 ore ogni togli non cambia niente perché non è una regola è una serie storica va bene quindi tu quello che puoi fare poi quando vai a tradare quella quell'asset e ragionare su quella struttura temporale ma poi devi aspettare un trigger operativo non puoi ragionare come se il tempo sia un trigger operativo questo è un errore enorme se fate ciclica ragazzi e prenderete delle bastonate colossali che dopo un tot di volte che le prendete capite quello questo concetto che vi sto dicendo non usate la ciclica come trigger operativo usatela come filtro l'ho spiegato nei miei corsi ci sono 15 anni di esperienza dietro questa frase non è una frase detta a caso e per spiegarvi per togliervi dalla testa quell'idea che la ciclica possa prevedere il futuro non è così non c'entra niente è un'analisi di serie storiche e ragionate serie storiche è una grande analisi non me la fate diventare una barzelletta perché non va bene se poi la ragioniamo così no però se ti trovi bene se tu hai fatto le serie storiche che hai calcolato così e te le ritrovi su bitcoin statisticamente le calcoli e ti fai la tua tabella sei a cavallo e il top continua a fare così perché quello è il modo giusto di ragionare ricordati solo non è una regola è una serie storica questo significa che le può cambiare tranquillamente ovviamente è difficile che possa portare un ciclo daily da 24 ore a 48 cioè ovvio che non è così no quindi però l'ora in più l'ora in meno su un ciclo daily ma che te ne fai che l'hai calcolata tanto comunque la devi lasciare come volatilità e quindi ti gira sempre intorno diverso il concetto dei cicli trimestrali annuali invece ha più senso fare questo tipo di ragionamento va bene allora spero di essermi spiegato perché è difficile questa materia a spiegarla in modi più più semplici e quindi quando mi fate la domanda io voglio sempre cercare di darvi un'idea di open your mind no di ragionare ragionate quando vedete le cose che è sempre bello perché aumenta la vostra cultura e soprattutto siete voi a pescare il pesce e non a dare retta a tisiocaio me o ad altre persone o insomma chi pubblica segnali di magia no che ci sono i canali telegram dei segnali magici ragazzi va bene allora ciao Mauro cosa ne pensi della transazione con Fio oltre 500k si è saputo che è stato paypal allora questa cosa l'ho vista ma ovviamente va approfondita o minimamente letto la news poco fa e bisogna capire che è successo lì paypal ha comprato bitcoin non so bisognerebbe capire che cosa hanno fatto ho visto la transazione ma devo ragionarci non ti so dare una risposta ora di direi una bugia è possibile che sia stato paypal sì sicuramente è possibile cerchiamo di capire di ragionare di approfondire prima di tirare le conclusioni tanto non scappa nessuno quindi assolutamente allora questa è bella questa domanda ciao Fino tua previsione bitcoin del 2030 allora io ti voglio bene ma come faccio a farti una previsione da qui a sette anni ti prego cioè è praticamente un'opinione mi stai chiedendo di buttare una scommessa facciamo così allora previsione bitcoin 2030 se esce la b bitcoin 2030 150 mila dollari se esce invece questa qui bitcoin 2030 e io sono sempre positivo quindi 80 mila dollari dai facciamo così ok la lancio ragazzi è fatta vediamo e ragazzi e ragazzi e ragazzi è uscito questo e quindi io ve lo dico versione bitcoin 2030 non mi ricordo quant'era 150 mila dollari la b indicava 150 mila e questa qui grazie Fino che vi hai fatto vi hai dato il permesso di fare questo lancio della voleta e un po' giocare abbiamo fatto la previsione va bene allora che ne pensi bnb adesso andiamo a matic facciamo matic bnb e solana così andiamo a guardare un po' la struttura ciclica anche di queste cripto che hanno tra l'altro vinto e il sondaggione e che ho fatto sul canale telegram e poi chiudiamo insomma il tutto allora andiamo a vedere un po' dove siete allora eccola qui iniziamo da ragazzi iniziamo da matic io lo so che non vedete la non state vedendo la il grafico adesso lo lo pubblichiamo perché volevo prima sto cercando quelle che avevo già analizzato in modo da farvi vedere quelli che erano già i i grafici finiti ragazzi eccola qua l'ho trovata è arrivata ok intanto risponde alla domanda di prima e credo che non lo uso preciso ma notato che ultimamente rispettava un grande percentuale questa durata allora se tu la usi così continua a usarla così perché stai facendo assolutamente bene ed è giustissimo il modo di ragionare soprattutto il modo di calcolare queste durate cicliche quindi basta che tu sei quello se hai notato che ultimamente rispetta più quella durata lì usa quella lì ovviamente ragiona sempre ad aggiungere poi un po di diversione standard di solito il 17 20 per cento su queste durate cicliche aumenta diminuisce più o meno di quella cifra una specie di bollinger come se tu avessi una durata ciclica con le due bande di bollinger che ti dicono più o meno quanto può durare andiamo a matic andiamo a vedere la questione di matic ciclo annuale di matic velocemente guardate qui che bella situazione ma vi ricordate vi ricordate il febbraio 2023 quando vi ho fatto il video e vi ho detto ragazzi matic a casa fuori perché andiamo in chiusura annuale va bene e vabbè poi qualcuno di voi ha detto no ma io me la tengo perché sono un holder va bene però perché ti devi tenere una cripto che perde il cento per cento cioè questa ha perso cento per cento però dico perché io questa cosa non la capirò mai ragazzi questa ha fatto meno 66 dai massimi meno 65 scrivetemi nei commenti perché tenersi una cripto che poi perde il meno 65 per cento seppure matic che è il top di una cripto fantastica qual è il senso di una cosa del genere e se tra l'altro ha anche proprio indicato un'inversione di trend da manuale in questa zona qui oltre che c'erano le scadenze cicliche bastavano l'abc veramente del trading questa poi c'è anche bitcoin era in trend non positivo cioè non il massimo diciamo quest'anno poi è andato in trading range cioè da qui in poi ha rotto anche la trend line che era tra i massi cioè proprio l'abc di ogni cosa che esiste nel trading ha rotto le medie mobili ha fatto un massimo ha tentato il rimbalzo non ha recuperato ha rirotto il minimo creando il famosa inversione statistica ha breccato le due medie mobili ha rotto la trend line ha invertito il trend di medio periodo perché io mi devo tenere questa critto ragazzi eppure vi svelo una cosa ora ve la svelo una cosa ragazzi io matic ce l'ho in portafoglio solo che è su ftx quindi non l'ho potuta vendere perché sta sul deposito e quindi in pratica in realtà ce l'ho anche io in holding però vivo dire sono bloccato allora nonno è per dire ragazzi però a volte no magari si può anche decidere di tenermi in holding a una parte magari il 50 per cento la chiudo a favore di trend perché è pericolosa prendo profitto riduco il rischio perché perché il problema di matiche noi io ho compreso penso che questa sia una grande cripto e tutto quello che vogliamo secondo me ritorna con un nuovo annuale benissimo ok ma se sbaglio e sbagliamo tutti e va a rompere questo minimo dell'inizio di questo annuale e a noi chi ce lo dice che questa roba non fa una cosa del genere c'è il problema è questo il trend attuale è a ribasso cioè mi dovete dire come facciamo noi a prevedere che questa cripto adesso inverte e inizia a salire e se invece scende basta cioè questo è il discorso poi cosa fate allora la vera la vera problematica del detenere una cripto o una asset finanziario contro trend ma soprattutto una cripto perché non ci sono dati di bilancio quindi un'azione è diverso ma una cripto non ha dati di bilancio quindi non abbiamo neanche dati degli utili per capire cosa sta succedendo cioè voi mi dovete dire qual è perché io devo assorbirmi il rischio che adesso ho su una cripto del genere io l'ho buttata fuori perché non volevo il rischio di trovarmi in una situazione del genere infatti io con le posizioni in hold ragazzi di bitcoin non il trading che ho fatto poco fa con le posizioni in hold di bitcoin tranne quelle storiche che non venderò mai ma quelle non le vendo mai sono fuori da i 29 due dall'accademia ragazzi e vi dico francamente se non mi dà segnali d'ingresso io non entro più fino alla chiusura dell'annuale resto lì aspetto sto alla finestra guardo poi magari se mi fa lo sguep rialzista entro un po più tardi però concettualmente il problema è di ragionamento qui non è di dove chiudo il ciclo annuale ve lo ricordo e di ragionamento non tenete asset in contro trend soprattutto se non hanno bilanci e quindi non abbiamo neanche un'idea di quanta liquidità è presente all'interno di quell'asset qui noi non abbiamo idea perché sono cripto e non si può fare analisi fondamentale sulle cripto ragazzi questo è il discorso allora la struttura di matic è fatta così chiudo l'annuale praticamente a momenti o l'ho già chiuso in pratica questa era la zona che avevo indicato di possibile fase di chiusura dell'annuale siamo a 1 2 3 settimane dopo quindi la classica volatilità niente di anomalo ancora al momento il minimo attuale segna 1 455 giorni di chiusura di ciclo annuale c'è solo un'anomalia che adesso vi faccio vedere potrebbe allungare ancora sì se fa un'anomalia la struttura di matic si è sviluppata con un ciclo ternario creato da due trimestrali per ogni movimento quindi un movimento con due trimestrali un movimento con due trimestrali un ultimo movimento che ha un solo trimestrale però lungo questo discorso qua potrebbe essere interessante qui siamo a 98 giorni è un trimestrale lungo l'unica cosa che insomma potrebbe esistere diciamo su matica al momento sono uno o due vedete i trimestrali sono abbastanza visibili questo è totalmente ribassista poi tra l'altro qui un trimestrale anche vincolato a ribasso ragazzi quindi proprio l'abc anche della ciclica qui un trimestrale che ha fatto un altro minimo prezzi binance in questo caso incloso sono nuovi minimi ma mi pare anche in shadow vediamo se 50 89 quelli su binance 5 49 24 0 49 24 quindi minimi anche incloso quindi sostanzialmente matic deve fare questo al momento chiudere questo trimestrale in atto dopodiché c'è un grande punto interrogativo ci fa un nuovo trimestrale che è il primo del nuovo annuale oppure disegna un ciclo piccolo che sarà una specie di lingua di buyer fatta in questo modo e si sincronizza agli eventuali minimi di bitcoin dell'annuale di bitcoin cioè spostandosi in pratica verso novembre dicembre non facendo quindi un ciclo appartenente al vecchio annuale ma al nuovo annuale ma comunque di barra di congestione o lingua di buyer una cosa del genere quindi la classica il classico fregone diciamo così per sincronizzarsi allora qui c'è un grande dubbio ora di segnali su matic al momento non ne abbiamo di segnali long non ce n'è neanche l'ombra non c'è un segnale long né sul daily né sul weekly né sul time frame accettabile in 12 ore insomma poi sui più piccoli si queste due candelette da fatte ma sono trading intraday quindi prima fase di attesa per avere una conferma il superamento di questo livello di massimo 056 su matic successivamente il prezzo dovrà necessariamente salire al di sopra di questo livello 064 e 5 per avere una conferma ora il trade di questa cripto nel tentativo di prendere questa fase iniziale può essere ghiotto quindi lì se agite da trader assolutamente sì considerate quindi un minimo una fase di rimbalzo un'eventuale fase down dovrebbe essere un buy con un tentativo di ripresa se poi va sotto il vostro minimo chiudete ovviamente ci sono poi altre tecniche che tradano anche lo stop hunting del minimo e quindi in quel caso lì potete utilizzare una tecnica escusa in questi casi cioè se buga il minimo vi prende lo stop e poi ritorna indietro rientrate in pratica la candela di rientro perché c'è stato uno stop hunting se poi riscende stop di nuovo ragazzi c'è poco da fare il trading è così però è interessante perché potrebbe darvi soddisfazioni qualora riprendesse questo trend certo al momento c'è un sell off pesante su matic quindi anche a livello daily vedete la struttura è fortemente ribassista però l'ultima volta che era stato così poi aveva fatto il super sell off e poi ha fatto questo appone appone che nel caso di una cripto come matic non è da sottovalutare perché qui sono 57 punti ragazzi per un nuovo ciclo trimestrale quindi pensate un po' se un nuovo ciclo annuale può fare bene per esempio questo annuale qui ha fatto più 200 con il primo trimestrale e poi è salito a più 386 con il nuovo annuale quindi da questo punto in poi se tentate degli ingressi long io ho spiegato nel mio corso una strategia che si usa in questi casi che è la by the deep deep con due e quindi è un gioco di parole non il deep con la i è una strategia contro trend come questa contrarian e si va a tentare di acquistare queste fasi di bassiste quando la struttura ciclica vi dà un vantaggio informativo che in questo caso ci sta dando è una strategia solo per trader professionisti non è utilizzabile da chi non ha le braccia forti e sa gestire poi le perdite con il stop loss eccetera quindi questa è la questione qui di matic ragazzi vediamo come andrà faccio pure io questa strategia facciamola insieme dai vediamo un po' come va allora il birraio sta dicendo io sto valutando due annuali corti su matic e siamo sul secondo annuali corti è impossibile perché cioè che annuale hai usato 200 giorni nelle cripto un annuale 200 giorni non esiste e ce lo puoi fare ma lo chiamano annuale ma sono semestrali però è lo stesso lo chiamo annuale lo chiami semestrale non cambia niente no chiamalo come ti pare infatti il primo annuale da circa 200 giorni è un semestrale quello lì semestrale dura 180 giorni perché devo chiamarlo annuale cioè questo me lo devi dire tu per quale motivo c'è un mese dura 30 giorni però io lo chiamo trimestre perché 30 giorni chiamalo mensile 200 giorni è un semestrale è un semestre cioè chiamalo semestrale perché lo chiami annuale però se lo vuoi chiamare annuale è lo stesso va benissimo lo stesso non cambia è un ciclo va bene chiamiamolo così quindi va bene insomma un annuale corto sarà 300 giorni un annuale corto capito non 200 200 è un semestrale ma neanche lungo semestrale giusto per però insomma puoi chiamarlo come come vuoi assolutamente cioè il nome del ciclo non ha non ci dà una grande informazione basta che tu lo stai valutando come un ciclo alla fine sono è la stessa centratura che abbiamo fatto qui vedi sono questi due uno e questi due così se poi tu mi dici che io qua ho iniziato un nuovo annuale ed è già ribassista allora lì è un problema però a quel punto dovremmo chiudere l'annuale di matic e farlo coincidere con questo annuale qui da 361 giorni allora questa è l'unica vera vera questione se l'annuale matic l'ha chiuso a 361 giorni l'ha birato al ribasso in questo caso quello che stai dicendo e può essere interessante capito quindi sono dovuto essere salvato da un altro trader annuali da ok 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 scusami non lo sapevo vabbè o annuale o semestrale è la stessa identica cosa però in ogni caso il concetto è questo cioè nel momento in cui tu vai a utilizzare 362 giorni totali e dici io qui ho chiuso un annuale e matic me l'ha birato al ribasso quindi non sta facendo gli annuali classici delle cripto quelli lunghi da 400 e passaggiorni e lì la questione si mette male ma quello comunque non puoi valutarlo senza comunque tradare il segnale long perché tu per sapere quella cosa devi aspettare il prossimo trimestrale però se il prossimo trimestrale è il nuovo dell'annuale poi che fai resti con l'accendino in mano il cedino in mano quindi devi comunque fare long quindi che sia un annuale già ribassista o che sia un annuale in chiusura l'esito della tua operatività non cambia quindi l'informazione non ci dà un vantaggio anzi ci distrae quindi il concetto al mente c'è sempre una sola cosa da fare qui tentativo long per fare il trade di questo trimestrale e non c'è un'altra cosa c'è un tentativo long di andare poi se non va bene magari prendi pochi profitto esci e se gira poi il ribasso quell'altro trimestrale puzza gli annuali di bassista allora lì insomma è figa questa questa cosa va bene trimestrale corte un bimensile lungo giochiamo così allora ragazzi andiamo bisogna sempre entrare nella partenza di società in questo colore esattamente top bravissimo si fa così allora andiamo a vedere altre l'altra cosa che era Solana 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 perché Solana tra l'altro è arrivata a quella notiziona interessantissima è praticamente una 600 e passa milioni che FTX dovrebbe vendere di Solana che in pratica corrispondono a tutta Solana a chi la vende a nessuno quindi pratica allora la struttura di di Solana è interessante perché Solana con il super ribassone di novembre ha a dicembre ha chiuso la struttura anomala guarda qui per esempio qui c'è un'anomalia enorme su la struttura ciclica di Solana con 526 giorni quindi qui sono due annuali ternari corti in pratica e non si vede neanche l'annuale qui questi sono due annuali corti in forma ternaria e è complicatissima però parliamo di altcoin ragazzi quindi qui ci sta poi quello che è successo a Solana e cioè è veramente difficile ma tanto a livello operativo non è che c'è la possibilità di fare altro allora questa struttura che sicuramente un nuovo annuale non si capisce bene come si sta formando perché allora la struttura del centro è un massimo e non è un minimo questo teoricamente è di solito estremamente indicativo tutti giochi di parole di un ciclo ternario ma poi si vede anche che di natura ternare quindi teoricamente è una specie di 400 giorni che indica 2024 la chiusura dei giochi su Solana quindi questa struttura è in teoria una struttura ciclica creata a forma ternaria così un super cammellone gigante che Solana sta facendo però ragazzi io questo ve lo ve lo dico cioè questa cripto per i trader è stata un bancomat per chi la sa tradare io non lo sto tradando vi dico francamente perché è stato un anno particolare ho voluto anche riposare mentalmente dallo stress del trading e ho fatto operazioni un po' più lunghette quest'anno sono andate molto bene quelle node su bitcoin quindi non voglio bruciarmi l'anno dietro mille grafici dovendo tentare di fare altre performance che ho già fatto insomma abbondantemente quindi però insomma siete bravi nel trading guardate qui fighissima questa cosa qui qua era un po' più difficile però è talmente volatine nelle fasi di up e nelle fasi di down che questi cammelloni giganti sono bellissimi guardate qui guardate qui è proprio meraviglioso cioè insomma tradatela se siete dei trader e avete un po' il tempo a disposizione usatela per formarvi e tradare questa cosa allora strutture dei cicli trimestrali di solana bellissimi anche questi sono dei trimestrali standard da 70 a 90 giorni qui ancora la domanda non è stata risposta abbiamo chiuso un trimestrale anche su solana come su bitcoin e stessa cosa di bitcoin però guardatelo lì insomma i cicli sono così 93 giorni ci può stare assolutamente vediamo anche qui però deve riprendere e recuperare tutta questa struttura cioè deve breccare le medie mobili salire sopra questo massimo 20 dollari e una volta che sopra 20 dollari e ci dà il là per questa struttura anche qui come matic tentativo di fare il trade di questa cripto al long assolutamente ci può stare a inversione di trend seguiti al trend e non do consigli finanziari non sono consigli finanziari lo sapete ma è buona diciamo norma da trader è classico solo formazione però c'è da dire che rispetto a matic qui di inizio nuovo annuale non ne abbiamo perciò sostanzialmente dobbiamo comunque aspettarci un probabile trimestrale che può essere tranquillamente magari spento così anche perché come come natura ciclica avendo la parte l'app centrale diciamo strutturata in questo modo a campana può essere che ha fatto il massimo dell'annuale e quindi nuovi massimi non ne farà però nulla vieta che può essere una cripto che magari la botticella rialzista la dà è una cripto volatile il trend il trading può darvi soddisfazioni perché magari 20 30 per cento di app lo fa e quindi perché no assolutamente da valutare quindi sol insomma secondo me ragione in questo modo john si dice ho letto ftx a lock fino a 2028 per lo sbrocco dei suoi token di sol sì ma anche volendo john se a chi li vende quei token lì cioè non è che può andare sul mercato a vendere quei token il curatore insomma ci stanno i nostri depositi su quei token quindi li vende ottici e quindi a qualcuno che vuole possedere solana e che i token di solana li vende a prezzo di mercato in ottici senza muovere il prezzo e basta questo qui poi se chi li compra per esempio il problema dov'è ragazzi è se li vendono ottici e li vendono sotto prezzo rispetto al mercato e chi li compra inizia un bot che fa una continuo sell dei dei degli asset eh per recuperare il sovrapprezzo vi faccio esempio ehm è appunto franzi dice Justin vuole fare perché Justin fa così cioè che fa se io li compro e li compro invece di 18 e 41 a eh 13 e 50 perché ti compro 600 milioni e quindi tu ti devi il pensiero e e io però cosa faccio poi prendo questi 600 milioni aggancio un botto faccio fare gli appettoni eh quelli da speculativi quindi mi faccio l'app la porto qui e poi qui inizio sell 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 per mesi 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 fino a quando in pratica il titolo non fa una roba del genere e scende e io in tutta questa campana mi sono venduto tutti i token perché l'ho fatto durare un anno di 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 sell off e insomma queste cose le fanno eh ragazzi è inutile che ve lo dico ma lo sapete quindi lì secondo me sarebbe più pericoloso vediamo comunque analizzeremo questa cosa bene ragazzi un'ora e dieci come sempre avete qualche domanda abbiamo fatto Matic e Solana eh bitcoin analizzato i cicli eh eh e le attese molto bella questa live tutta ciclica tra le altre cose bravi voi che siete diventati super esperti di ciclica allora ragazzi CRO non riesco perché purtroppo è troppo tardi per me e devo chiudere ma la facciamo nella prossima va bene tanto CRO comunque diciamo di di non è che abbia eh un grafico tanto diverso dagli altri eh insomma è eh così ve lo faccio vedere al volo però purtroppo non riesco a farla oggi eh perché eh è troppo tardi quindi la riprendiamo nella prossima live e avrà la prelazione diretto di prelazione il nostro amato CRO che fine hai fatto? Crypto.com ritorna in te riprendi le redini di questa di questo carro e ritorna a pubblicizzare perché quando eravamo nel vecchio bear market almeno c'era Crypto.com che faceva un macello di roba e ci rendeva la vita bella allegra invece qua tutti spenti sono tutti spenti mannaggia la miseria va bene eh va bene va bene va bene va bene ok eh grazie grazie eh eccetera va bene allora intanto ah 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 sta parlando di Justin eh mi fai ridere perché dici Justin sto valedetto eh dici eh onesto come vanno marchi la povera vanno marchi vabbè eh ciao fra benvenuto nel corso Besky 2.0 ti divertirai tantissimo eh soprattutto ti si apre la mente a quattro insomma e e vedrai tante tante cosette nuove mh grazie grazie basta tontico grazie grazie a tutti ragazzi e noi ci rivediamo nel video classico di YouTube sto facendo degli short su YouTube piccolini che eh mirano a a parlare di altri altre tematiche investimenti finance in generale così andremo ad aggiungere man mano anche eh delle analisi su quelle che poi sono anche gli altri mercati come abbiamo fatto quella su Nasdaq oggi veramente bellissima insomma capito ma quanto eh l'hai venduto il tuo primo BTC che hai farmato quanto tempo hai resistito davvero ho fatto trading ho fatto trading però in realtà eh i primi primi credo sempre intorno dopo i 20 K non non primi ma comunque sempre seguendo i sistemi di trading quindi poi li ho ricomprati in ogni caso quindi non è che li abbia mai lasciati quindi questa è la è la domanda sì comunque percentuali abnormi di rendimento che non avrò mai più penso nella mia vita perché Bitcoin ce n'era solo uno l'ho avuto anche con ETH ETH ho avuto grandi grandi rendimenti anche lì perché ETH io c'ero ragazzi quando costava veramente i centesimi e ero già proprio molto molto avanti a livello cripto quando costava 60 70 dollari quindi comunque eh ha fatto grandi numeri anche lui eh non solo Bitcoin e va bene grazie a tutti ci rivediamo nel nel prossimo video ciao 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 ciao